Sono Marco Dragone, mi occupo di sviluppo prodotto in Cesar. Il mio compito oggi è di guidarvi alla scoperta della seconda novità di prodotto di Cesar di questa stagione, ossia la collezione Alchemy. Alchemy esalta le qualità estetiche e creative raggiungibili oggi con il grass, reinterpretando in una chiave dal forte sapore artistico uno dei materiali più emblematici dell'architettura e del design contemporaneo, ossia il mondo del metallo. Ma l'estetica del metallo in Alchemy è solo il punto di partenza, al quale si vanno ad aggiungere nuovi elementi, nuove sperimentazioni, nuove soluzioni stilistiche. Alchemy infatti ridisegna le superfici metalliche, testimonia come esse mutano al passaggio del tempo all'esposizione di agenti atmosferici e di come cambiano l'aspetto a seguito di lavorazioni o processi industriali, di come sviluppano patine protettive, di intensità variabile, dalla distribuzione assolutamente regolare e dagli affascinanti cromatismi. Tutte queste imperfezioni diventano per noi elementi di valore, forieri di stile e bellezza, in grado di disegnare un nuovo look di alto design dal sapore tipicamente industrial. In fase di ricerca abbiamo individuato sei colori, ciascuno dei quali si confronta con il grande fascino portato dalle imperfezioni. Cinque di questi colori sono inediti, mentre uno è già ben noto a chi tratta i prodotti Cesar da tempo. Si tratta del colore mint, un colore che negli anni ha avuto un grande impatto sul mercato fino ad imporsi su esso e a diventare un vero e proprio marchio di fabbrica di Cesar. Si tratta della patina verde che si sviluppa dalle ossidazioni del rame, in uno spettro cromatico ricco di variazioni che vanno dal verde a tonalità calde e brunite. La gamma dei colori inediti invece comprende colori neutri e colori accenti. Frozen è un bianco molto luminoso ed ha il carattere forte. Rimanendo sulla gamma dei grigi troviamo Argent, un grigio molto ricco e intenso di variazioni. Magnet è un look metallo scuro, caratterizzato da ossidazioni che virano sui toni dell'arancio e del ruggine. Nevi parte da un punto di blu trendy, ispirandosi alle lamiere metalliche che si ossidano quando sono esposte in prossimità di ambienti marini o ad elevata salinità. Infine troviamo Copper, un classico color rame, molto vivido e fortemente decorativo. Si tratta nel complesso di colori dalla forte identità e dall'altrettanto forte effetto decorativo sugli ambienti. La potenza e il fascino di Alchemy vengono espressi anche attraverso un'ampia offerta di formati. 120-120, 80-80 e 40-80 consentono svariate pose a pavimento e rivestimento, mentre il 120-278 è la soluzione ideale per rivestimenti ed esclusivi agli elementi di arredo. A questi formati vanno aggiunti quelli già esistenti nella pregressa gamma del Mint, che vi invito a consultare a catalogo, compresa la versione spessore 20 mm disponibile nei formati 60-60, 120-120. Questa versione è una novità di Cesar di inizio 2020, che trasporta il particolarissimo look di Mint anche sulla destinazione dei pavimenti outdoor, per una resa estetica di grande impatto. Passando alla finitura, Alchemy trasferisce la sensazione del metallo grazie a una superficie liscia e uniforme, a vantaggio del piacere al tatto e della praticità nella pulizia. Gli articoli in spessore 20 mm invece hanno una finitura antiscivolo idonea per soluzioni in outdoor. Anche per questa serie si rinnova l'impegno di Cesar nell'offrire un'offerta ampia e diversificata di decori. Mint Deco, Copper Deco e Nevi Deco sono invece decori disponibili in formati quadrati sia per pavimenti che per rivestimenti, nelle quali suggestive trame impresse sulla superficie vanno ad arricchire il colore di fondo connotandolo in maniera spiccatamente vintage. Ma non mancano neanche i decori mosaici da taglio, una novità assoluta espressa dal mosaico 3D Hexagon, nel quale la trama esagonale è mossa da giochi di luce e ombra dettata dalla disposizione tridimensionale delle tessere. Per questo mosaico Cesar consiglia assolutamente una posa senza fughe. Il secondo decoro da taglio, denominato composizione N per chi già conosce i prodotti Cesar, è un classico mosaico a tessere quadrate di dimensione 10x10, disponibili nella versione base o nella versione impreziosita da inserti in metallo, con finitura in ottone satinato o in vetro lucidato a specchio. Riassumendo, questa collezione ha come motivo di forte interesse questa alchimia tra la purezza della materia e l'intervento creativo frutto delle imperfezioni, piene di fascino portate dalle ossidazioni. Piastrelle e lastre catturano l'attenzione per evocare stili direttamente industrial o per offrire soluzioni più morbide nel cui il moderno stempera in ambienti di raffinata eleganza. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di aver suscitato in voi curiosità verso alchimi.